Come si conquistano i voti di Vendola? Che vi interesseranno, no? Si conquistano... Ma io non dico da sé, nel senso rispetto a Renzi che gliela fa da solo. Però chi è andato alle primarie e penso che chi ha voluto incidere in questa prima fase vorrà incidere anche sulla seconda. Non credo ad automatismi, non credo neanche a passaggi, a trasferimenti di voto rispetto alle indicazioni dei leader. Io penso che l'elettorato di centro-sinistra stia mostrando una maturità nel suo complesso che gli consente nel secondo turno di posizionarsi rispetto alla candidatura più credibile e continuando ad utilizzare parole, secondo me, di chiarezza, di puntualità. Abbiamo parlato di scuola, abbiamo parlato di convivenza, abbiamo parlato di lavoro, abbiamo parlato di fisco, con delle proposte. Insomma, non è vero che c'è una roba generica e fumosa. A me dispiace, però su questo ci vuole anche un elemento di reciproco rispetto. Nel senso che io riconosco le proposte degli altri anche quando non le sento particolarmente mie. penso che le primarie siano anche, non dico una corsa tra programmi, però il tracciare un profilo complessivo di coalizione...